Ancora bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti verso nord tra Arezzo e Incisa Reggello, tra Firenze Impruneta e Aglio e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Con la variante di Bali con rallentamenti verso sud tra BV1 Variante e Badia. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo cote attratti per traffico tra Capannori e Pistoia per chi viaggia verso Firenze. In Fipili 3 km di coda con tendenza alla diminuzione tra Empoli e Ginestra verso Firenze per lavori. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in Viale Nenni, i ripristini in via Guelfa e via San Zanobi e la rimozione di un palo in via Bolognese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!